Ciao a tutti, io sono Andrea e vi do il benvenuto sul mio canale. Spero vi piaccia il mio nuovo video. Per raccontarvi questa storia vi porterò con me in Sudafrica. Visto che questo sarà il primo video del nuovo anno, voglio iniziare con una storia crime ma non truce e se vogliamo anche con un bel finale, ma di questo non ne sono poi certo, lo deciderete voi. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Come dicevamo, ci troviamo in Sudafrica, precisamente a Città del Capo. È il 28 aprile del 1997 e Celeste Nourts dà alla luce una bellissima bambina che chiamerà Zefani. Lei e suo marito Morn erano felicissimi. Avevano preparato la cameretta per la nuova arrivata dipingendola di colori pastello e non vedevano l'ora di portarla a casa. Per tre giorni, mentre era ricoverata dopo il parto, Celeste l'aveva tenuta in braccio ed all'altata, in attesa del permesso di lasciare l'ospedale. Ma qualcosa improvvisamente hanno storto. Il 30 aprile del 1997, una donna vestita con l'uniforme da infermiera portò Zefani fuori dalla stanza di Celeste, che, un po' assonnata dai farmaci antidolorifici che le erano stati somministrati, aveva pensato che facesse parte del personale del reparto di maternità. Quando fu svegliata da un medico che le chiedeva dove fosse la bambina, Celeste le disse che era stata prelevata dall'infermiera. Inorridì nell'apprendere che nessuno aveva mandato un'infermiera nella sua stanza a prelevare la bambina. Fu immediatamente avvisata la polizia, che non riuscì però a trovare alcuna pista da seguire. Il risultato fu che Celeste e Morn, genitori sconvolti, furono mandati a casa senza Zefani, la loro primogenita. Morn e Celeste trascorsero anni cercando di sensibilizzare i media sulla storia della loro figlia rapita, che divenne di dominio pubblico. La famiglia fu sommersa da numerose segnalazioni per un decennio, ma nessuna portò al ritrovamento della loro bambina. I Nords ebbero altri tre figli, e la particolarità era che tutti i bambini si somigliavano moltissimo tra di loro. Nel gennaio del 2015 la storia prese una piega inaspettata. Era il primo giorno di scuola alla Zamaschi High School di Città del Capo e l'inizio dell'ultimo anno per la diciassettenne Mice Solomon. Sembrava un qualsiasi altro primo giorno di scuola, tranne che per tutta la mattina altri studenti continuavano a dire a Mice qualcosa di strano. Una delle nuove studentesse, una ragazza di tre anni più giovane di lei, Cassidy Nords, era identica a lei. All'inizio Mice pensava che fosse curioso, ma non ci pensò poi più di tanto. Quando però gli altri studenti continuarono a parlare con insistenza di quella sorprendente somiglianza, Mice decise di incontrare l'altra ragazza nel corridoio della scuola. Immediatamente sentì una connessione istantanea con Cassidy, che non riusciva a spiegare. Era quasi come se la conoscesse da anni. Anche la ragazza più giovane, Cassidy, prese subito in simpatia a Mice. Nonostante la differenza di età, Mice e Cassidy iniziarono a trascorrere molto tempo insieme. Mice chiamava Cassidy Baby e Cassidy chiamava Mice Big Sis, diminutivo di Big Sister, sorella maggiore. Quando qualcuno chiedeva loro se fossero sorelle, loro rispendevano scherzando, chi lo sa, forse in un'altra vita. Un giorno, come si usa fare tra adolescenti, le due ragazze fecero un selfie insieme e lo mostrarono ai loro amici. Alcuni chiesero a Mice, «Sei sicura di non essere sua sorella? Sei sicura di non essere stata adottata?» La risposta era sempre «Ma dai, non essere stupido!» Quando Mice mostrò quella foto a sua madre, Lavona, la donna ne fu molto turbata. Il padre invece ammise la somiglianza, ma non diede troppo importanza alla cosa. I genitori di Cassidy, Celeste e Moore Nourse, invece ebbero una reazione molto diversa. Guardarono intensamente la fotografia e ne rimasero letteralmente scioccati. Dissero a Cassidy che doveva assolutamente chiedere a Mice se fosse nata il 30 aprile del 1997. Cassidy, un po' incuriosita e un po' divertita, fece la domanda all'amica e lei le rispose, altrettanto divertita, che sì, era andata il 30 aprile del 1997. Settimane dopo, Mice fu inaspettatamente convocata nell'ufficio del preside, dove due assistenti sociali la stavano aspettando. Le raccontarono la storia di una bambina di tre giorni chiamata Zefani Nourse che era stata rapita dall'ospedale Grootschur di Città del Capo, 17 anni prima e non era mai stata ritrovata. Mice ascoltò la storia interrogandosi sul perché gliela stessero raccontando. Poi gli assistenti sociali le spiegarono che c'erano prove che suggerivano che lei potesse essere la bambina che era stata rapita tanti anni prima. Per conflutare le cose, Mice spiegò che non era nata all'ospedale Grootschur ma a Retreat Hospital a circa 20 minuti di auto. Almeno questo era quello che c'era scritto sul suo certificato di nascita. Ma gli assistenti sociali le risposero che in quell'ospedale non c'era traccia della sua nascita. Certa che tutta questa storia dovesse essere un terribile errore, Mice accettò quindi di sottoporsi ad un test del DNA. Credevo così tanto nella madre che mi ha cresciuto. ero certa che mi avrebbe mai mentito, specialmente su chi sono e da dove vengo, dice Mice. Quindi la mia mente era convinta che il test del DNA sarebbe stato negativo e tutto si sarebbe risolto lì. Ma le cose non andarono come sperava. I risultati del test dimostrarono indiscutibilmente che Mice Solomon e Zephani Nortz, la bambina rapita dall'ospedale Grootschur nel 1997, erano la stessa persona. Mice ne rimase scioccata e destabilizzata. Sentiva che la sua vita era fuori controllo. La storia della bambina rapita, ormai diventata una giovane donna, trovata quasi per caso dopo due decenni, fece notizia non solo in Sudafrica, ma in tutto il mondo e la vita di Mice cambia drasticamente e secondo me non in meglio. Le fu comunicato che non sarebbe potuta tornare a casa perché, ancora minorenne, ci sarebbero voluti altri tre mesi prima che compisse 18 anni e le fosse permesso di prendere le proprie decisioni da sola. Ma fino ad allora sarebbe dovuta rimanere in una casa sicura, che non era quella che aveva sempre considerato come sua. In seguito Mice ricevette notizie ancora più devastanti. Laona Solomon, la donna che l'aveva cresciuta e che aveva creduto sua madre, fu arrestata. Mice assistetta all'interrogatorio del marito di Lavona, l'uomo che considerava suo padre. La polizia voleva sapere se fosse stato complice del rapimento. Lui disse di non sapere niente di tutta quella storia e che per lui Mice era sua figlia. Raccontò infatti che Lavona era incinta, perciò quando uscì dall'ospedale con una bambina, ovviamente lui aveva creduto che avesse partorito e che quella fosse sua figlia. Ma santo cielo, ma non sei mai andata a trovare tua moglie in ospedale? Oppure pensi che la sala parto sia come un Mc&Drive dove entri, ordini e ti consegnano un pupo e con un euro ti danno pure il gemello? Gli inquirenti pensarono che la donna avesse nascosto a tutti un aborto spontaneo e poi avesse simulato il resto della sua gravidanza prima di rubare Zefani Nords, portandola a casa e fingendo di avere dato alla luce la bambina. La polizia non trova mai prove che Michael Solomon sapesse che Mice era stata strappata ai suoi genitori biologici e fu quindi rilasciato. Sebbene Celeste e Mark Nords avessero avuto altri tre figli, non avevano mai smesso di cercare la loro primogenita, Zefani, e avevano festeggiato il suo compleanno ogni anno anche dopo aver divorziato. Per uno scherzo del destino la loro bambina rapita era cresciuta vicino a loro. La casa di Solomon infatti si trovava a soli 5 chilometri da quelli dell'infermiera. Da bambina, Michelle giocava nel campo di fronte a casa dei suoi genitori biologici. Le preghiere della famiglia erano state esaudite Mice si riunì con i suoi genitori biologici in una stazione di polizia in presenza di assistenti sociali, ma non era a suo agio perché quelli che si trovava di fronte, che tutti dicevano fossero i suoi veri genitori, per lei erano naturalmente degli stranei. Era attormentata al pensiero che quelli che lei amava fossero devastati dal dolore per averla persa. E uno di loro, la sua amata mamma, era dietro le sbarre. Il processo di Lavona Solomon, presso l'alta corte di città del Capo, iniziò nell'agosto del 2015. Siamice che i suoi genitori biologici erano lì per ascoltare la testimonianza di Lavona. Durante tutto il processo, la donna negò qualsiasi addebito. Raccontò dei suoi numerosi tentativi di avere un bambino, della serie di aborti spontanei che aveva avuto e della sua difficoltà di adottare un bimbo. Disse poi che le era stato offerto un bambino da una donna di nome Silvia che le aveva detto che era stato parturito da una ragazza che non voleva tenerlo e voleva che fosse adottato. Ma non riuscì a dimostrare che Silvia esistesse veramente. Inoltre, quasi due decenni dopo i fatti, un testimone ricordava di aver visto la donna vestita da infermiera che portava via la piccola Zefani mentre Celeste dormiva e riconobbe Lavona come quell'infermiera. Il giudice concluse che le prove contro lei fossero schiaccianti. Nel 2016, Lavona a Solomon fu condannata a dieci anni di carcere per rapimento, frode e violenza su un minore. Il giudice la criticò per non aver mostrato alcun pentimento durante il processo. Mi scendicherò di essere devastata dal dolore per dover passare tanti anni senza la madre che l'aveva cresciuta. Più tardi quell'anno Mescevi si dò Lavona in prigione e le riuscì a parlare per la prima volta da quando gli assistenti sociali erano arrivati nella sua scuola. Fu una visita senza alcun contatto che spezzò il cuore della ragazza. Vederla con la tuta del carcere fu straziante. Nel suo cuore l'aveva già perdonata. L'amore che aveva sempre provato per lei non poteva essere scalfito in nessun modo ma nello stesso tempo Mescevi aveva bisogno di sapere la verità di scoprire cosa fosse successo il giorno in cui Lavona l'aveva portata via da sua madre in ospedale. Al compimento dei suoi 18 anni alla fine di aprile del 2015 Mescevi pensò di trasferirsi con uno dei suoi genitori biologici ma cambiò poi idea perché erano divorziati e quello di cui aveva bisogno in quel momento era un'unità familiare. Decise allora di tornare a vivere con Michael quello che aveva sempre considerato suo padre in quella che considerava la sua casa. Mescevi ha provato a instaurare un rapporto con la sua famiglia biologica ma ammise che a volte sentiva persino di odiarle per averle portato via sua madre così come ha odiato Zefani perché le aveva causato tanta sofferenza. Zefani era il nome datole dai suoi genitori biologici. Michelle Solomon ha scelto di mantenere il nome con cui è cresciuta piuttosto che quello con cui è nata. In qualche modo riesce a convivere con entrambe le sue identità e dice puoi chiamarmi Zefani o Michelle va bene in entrambi i casi. Va ancora a trovare L'Avona nella prigione di Worcester a circa 120 km da dove vive ma è un lungo viaggio soprattutto ora che ha due figli. L'Avona Solomon dovrebbe essere rilasciata nel 2026 e Michelle dice di non vedere l'ora che torni a casa. Questa storia che si potrebbe pensare a lieto fine in realtà non lo è almeno per me. È vero la mamma ha ritrovato la figlia rapita a 17 anni prima ma a quale prezzo? La vita della ragazza è completamente stravolta personalmente andare fuori di testa ora non oso immaginare a 17 anni. Naturalmente non sto difendendo L'Avona la rapiltrice sto semplicemente dicendo che non so proprio cosa sarebbe stato giusto fare pensando per prima cosa al benessere di Michelle. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Per oggi ci fermiamo qui vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo occhio a chi vi saluta sempre ciao ciao